Gli appetiti dell'Andrangheta sulle scommesse di calcio portano nel Salento il terremoto che ha condotto al fermo all'alba di 50 persone in tutta Italia. Nella bufera finisce il brindisi o ordinanza di custodia cautelare per il presidente e vicepresidente della squadra Antonio e Giorgio Flora, per il direttore generale Vito Morisco e il consulente di mercato Savino Daleno. Non è tutto. Tra i sottoposti a fermo ci sono anche Marcello Solazzo, intermediario di 32 anni di Campi Salentina, il collega Raffaele Pietanza, 34 anni, di San Pietro Vernotico e Massimiliano Carluccio, anche lui 34 anni, di San Pietro Vernotico, socio occulto della Propatria. Inchiesta diversa ma con lo stesso Massimo, come un denominatore, quella che ha portato in queste ore anche a sei avvisi di conclusione indagini a sei tifosi del brindisi per altri, due presunti tentativi di combina e intimidazioni tra il 2011 e il 2012. Gli avvisi a firma della PM Savina Toscani sono stati notificati dalla Digos, tra gli altri, anche ad un ex presidente del brindisi calcio, Roberto Quarta. A finire nei guai ancora Francesco Margherito, Alessio Dei Udici, Bus Savino Daleno, il calciatore Massimo Pollidori e Francesco Galluzzo. Ma questa, si diceva, è un'altra storia rispetto all'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Calanzaro. In questo caso, per tutti, l'accusa a vario titolo e di associazione a delinquere finalizzata la frode sportiva con, per la prima volta, l'aggravante mafiosa. Sono decine le partite di calcio che sarebbero state combinate nei campionati in corso di Lega Pro e Lega D. Due in particolare, quelle sotto la lente degli investigatori che riguardano il brindisi, quelle in casa con il Sansevero il 23 novembre scorso e quella precedente in trasferta con il Pomigliano il 14 novembre. I dirigenti, soprattutto, rischiano ora fino a nove anni di carcere. L'indagine è partita da un'intercettazione di un soggetto legato alla cosca Iannazzo di La Mezzia Terme. Due gruppi criminali organizzati, distinti ma in contatto tra loro, avrebbero deciso a tavolino gli incontri del campionato dilettantistico e dei tornei professionistici. Per la DDA, un sottobosco criminale ben innestato nel mondo del calcio, le cui fila sono tenute da professionisti dello sport che approfittano della propria funzione, in seno alle società calcistiche, per combinare partite dei campionati, al fine di alterare il risultato per lucrare sulla combine scommettendo essi stessi sull'evento sportivo. Ad alimentare il business anche soldi stranieri, quelli dei signori delle scommesse, personaggi che vivono in Asia, soprattutto in Kazakistan e nell'est d'Europa, tra Serbia e Slovenia e in Russia. E da questi finanziatori, attraverso la mediazione di dirigenti sportivi ritenuti disonesti avventurieri, che venivano corrotti i calciatori, con l'obiettivo di avere appunto risultati certi per riscuotere l'auti guadagni attraverso le scommesse. Tra le squadre coinvolte anche Propatria, Barletta, L'Aquila, Neapolis, Mugnano, Torres, Vigor Lamezia, Sant'Arcangelo, Sorrento, Montalto, Puteolana, Acragas e San Severo.